È una scuola che mi piace tantissimo, le dico la verità. Hanno 16 punti e non hanno rubato niente, anzi, hanno vinto a Mantova meritatamente, hanno vinto con la Binolefe e domenica sono andato a vederli meritatamente, hanno fatto due pari in casa col Bassano e il Bassano ha pareggiato all'ultimo minuto, hanno fatto uno pari in casa col Pavia e hanno pareggiato loro in dieci all'ultimo minuto, hanno battuto il Lume Zane e hanno battuto il Cuneo, hanno perso solo in casa col su Tirol su episodio e in casa col Piacenza su contropiede del Piacenza. Gasbarroni è un giocatore di calcio, il problema è lui quando ti punta perché ti sterza, ti controsterza, ti finta, ti rifinisce, lì è bravo, dopo magari avrà anche lì, va al tiro. Bruno per me invece ha tutto quello che deve avere un attaccante importante per giocare a calcio, ha colpo di testa, è acrobatico, è forte di testa, è forte di sinistra, è forte di destra, sa smarcarsi, sa giocare spalla alla porta, però io ho grande stima dei miei calciatori, non è che faccio questi paragoni per dire che i miei, io i miei, l'ho detto, ho grande stima e stanno crescendo. Io sono contento di tutti i giocatori che ho, è venuto anche Ferri, ma a me cosa è che mi ha impressionato di Ferri, ma non perché è Ferri, ma che mi è piaciuto perché è venuto come se fosse l'ultima ruota del carro, cioè si è messo lui a disposizione degli altri, è questo che è stato. E' una situazione così e portabilità. Capito? Quindi se mi arriva un giocatore che ha giocato in Serie A o in Serie B e viene qua a fare la mezza, scusate il termine, fighetta, no, se viene qua ed è ad esempio gli altri, si allena bene, poi è un coppolo, allora si trascina gli altri perché Ferri sta trascinando gli altri come mentalità. No, Matteo!